Dottor Negri, che cosa ha combinato? Ce lo vuole raccontare? Tra miserie e dignità, l'Italia si trascina, tra gli errori e la vergogna cammina, le ingiustizie e le bugie non l'abbandonano mai. Là nei posti del dolore, i silenziosi eroi, mandati disarmati alla guerra, come angeli caduti, nei loro visi c'è la realtà. Ed andrà tutto bene, ci dicono da tempo, ma la vita non è solo un proclama, ed intanto viene sera e la consapevolezza si fa nera. Pensando ad un domani che promette neve, e la solidarietà è un'utopia. Nei cavo delle banche, sta ridendo l'ultima mucina. Tra miserie e dignità, l'Italia si trascina, nel teatro di questa politica, dove tutti hanno ragione, dove tutti pensano a noi. E la gente è stanca a marcia di questa sceneggiata, dove la protagonista è l'incertezza, perché manca la speranza, la condivisibilità. Perché noi non siamo numeri, perché noi siamo persone, che non hanno rinunciato alla vita, quella vita di promesse, quella vita di stabilità. E invece chi guadagnerà, non sarà certo la gente, che ha bisogno di altruismo e di giustizia, tra abusi di potere e di legalità. Così l'Italia si trascina, in questo immenso mare, dove è troppo facile affogare, dove niente sarà come prima, anche grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.